benvenuta è stata una emozione straordinaria principalmente è stata perché anche se canto sempre in italiano durante i miei concerti però fare arrivare nei paesi più sconosciuti del mondo una canzone in italiano mi era impossibile in una serata sola è stato un amore e poi ho sentito tantissimo apporto da parte di tutti gli italiani tantissimo dalle radio dai giornali grazie mille, grazie, sia così sono ancora emozionata perché è stata una cosa, la nomination è già un traguardo sì, sì importante, quindi è quello il vero tramato è quello poi la scelta è comunque grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti